Ciao a tutti amici, benvenuti su Fasmofobia. Oggi siamo con il quattordicesimo episodio, dove oggi proviamo a non morire nei primi 5 minuti, come è successo nell'episodio 13, che non avete visto, andate a vedere, perché se no siete tutti dei... ragazzi, sono usciti un sacco di video di Fasmofobia e metà al commento, andate a vedere. Ma non è anche la moda del sfido dell'altro giorno? No, perché c'è un sacco di roba. Ma non si vede un cazzo? Sì, però è qua, è qua. Sì, è qua. Ma che è qua, perché c'è la fiaterna. Ma la camera non vuol dire... Ha camminato! Eccolo! NOV! Io non vedo un video. Eh, NOV! Ah, ok, scusate. Cancellate. 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 Dov'è? Sì, mi chiedevole. Dov'è? Dov'è? Prova a scrivere. Cancellate. Ma c'è proprio una... Ma mamma... Ma mamma... Bene. MFA4. Puoi scrivere sul libro spiritico? Dom! Aaaaaaa! Dohhhhhh! Nooooooo! Io... Io metto voli... I gemelli... Vuole MFA4.. Non so cambiare, Attacca dosebile dalla stessa stanza... E quindi... Non credo siano i gemelli. Bravo, ma te vuoi! Oshè Ma la devo prenderlo? No, no, lascio la Per forza Qua c'è una porta Dove è porta? Da menzini, da menzini Sei qui? Eh qui, è qui No Qua E' qua eh. Eccolo. E' nel bagno. Ultravioletto. Ci sei? Spostate lo sprofibisso. Ma dov'è? Ma dov'è? Ma dov'è? Nel bagno. Ma fatti. Come hai fatto a trovarmi? Ci sei? Rispondimi. Come? Scrivimi sul libro, per favore. Scrivimi sul libro, amore mio. Ma? Ma come? Assurdo. Come ho fatto? Cazzatore F. Bars? Meeh. No, no, no. Sto storto. Non ti ha fatto bars? Si che mi ha fatto bars. Come se nessun ultravioletto ci abbiamo. Il dozzo non è stato rilevato. Il libro non ha scritto. La Spinbox è mai risposta. MF non dice un cazzo. Potrebbe essere un Port-Gast. Mi lanciava roba. A me ne ho mangiato uno a questa cazzo. Era un Port-Gast. Te l'avevo detto. Mannaggia. Oh sce. Dimmi che sei qui. Io vado al piano di sopra. Ecco. Tutti. Ecco. Tutti. Capito? No, no. Ciao. Semmi che vuole. Ciao. Semmi che vuole. Che di qui. No. 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 C'era il outpere. No. 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 Eccolo, come si chiama? Puntatore Doz, Puntatore Doz, via via fuori fuori. AIDO CA- Non ce l'ho più, non ce l'ho più. Ecco, ha camminato, ha camminato. Ha fatto un B? No, perchè... Cioè, meno che non ha fatto la porta. Qui in attimo. Eh... Se ne ha rimette il sale, aspettate. Ecco, no, non lo lascia un B. Vedi che MF, vedi che MF. A tre. Prova, prova, parla con me. Vi faccio vedere io se poi non vanno. Forza. Madonna, dove sei? Sei amichevole? Eh? Che dici? Perché non mi rispondi? Ah, mi senti però, eh? Ah, hai paura? Affrontami. Sì. Ah, ma... C'è le manche di uccidere. Oh, niente. Qua, che morte in me è? Sì, ma... C'è lei, è presa. Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Oh, niente. Sì, ma... Sì, ma... Oddio! I miei miei... Ciao, vede. Dio, vedi... Oddio, ho racconto adesso e ero spero di te. Sì, ma... E non se non rilove niente. Va beh. Mi immagino una famiglia che torna in casa e vede due morti. Perfetto. Tanti due spiriti. Aggiungi una crisi. Vabbè mi hai chiamato Vittorio e tu vieni. E' una crisi, l'invocazione ne aveva mai. Incazzano. Amo ma non hai accetta la videocamera. E non ti posso rispondere se io ti vieno. C'è la delegazione finita comunque. Ma devi accendere la telecamera. Certo. Franci, le rispondi. Dov'è te, lefano? Anche fanno un squinto. Ma perché mi chiamo con la debbia, ho carattato. Ok, a madonna quanto paghi? Io metterai l'ombra. Che ne puoi dire il passo? Niente, perché non mi han seguito. Io metterai l'ombra perché abbiamo un libro spiritico. E io l'MF l'ho sentito di chittà. Mamma mia! Ciao! 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 Ciao!